Anticipazioni Beautiful, Douglas esclude Liam dalla famiglia, lui distrutto. Puntata intera del 29 dicembre 2023. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo una anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Alla Forest of Creations, Thomas si dice tra sé e sé che non deve fantasticare su OP. Liam e Douglas arrivano mentre Thomas sta sistemando l'abito su OP. Douglas, che aveva chiesto a Liam di portarlo dai suoi genitori, dice che Liam vuole che Douglas lasci la casa di Eric. Liam dice che è perché sente la mancanza di Douglas, così come Beth e OP. Liam riconosce di non essere il padre di Douglas, ma spera che OP possa spiegare perché è importante che Douglas torni a casa per un po'. Perché è quello che vuoi anche tu, vero? Chiede Liam a OP. Douglas dice che vuole stare con Thomas e che non sono stati così da quando era un bambino. Douglas non vuole lasciare la casa di Eric. Thomas afferma che nessuno ha detto che Douglas debba farlo. OP dice che Liam ha ragione riguardo alla mancanza di Douglas da parte degli Spencer. Ma se Douglas è felice, troveranno un modo per farlo funzionare. Douglas chiede se ciò significa che può restare con Thomas. Per ora, risponde OP. Douglas abbraccia OP, dicendo di sapere che lei avrebbe capito. Douglas propone che lui, Beth e i suoi genitori trascorrano il weekend insieme. OP dice che Beth ne sarebbe entusiasta, ma hanno un grande anteprima su cui stanno lavorando. Thomas dice che dopo l'anteprima lo faranno. Thomas, OP e Douglas si abbracciano. E Liam sembra triste. In seguito, OP, Thomas e Douglas sono soli, a rivedere i disegni di Thomas. Douglas dice che suo papà è il migliore. OP è d'accordo, lanciando un'occhiata a Thomas. OP sorride mentre Thomas mostra a Douglas come fissare un abito su un manichino. Douglas dice che adora passare del tempo in quel modo. Ama i suoi genitori e vorrebbe che si amassero a vicenda. A casa di Brooke, Brooke congeda a Beth dopo un party del tè, e Katie si siede per chiacchierare con sua sorella. Discutono del fatto che OP trascorre lunghe ore con Thomas nell'anteprima di moda e a casa di Eric. Brooke dice che Katie non ha menzionato Bill. Sicura del motivo, Katie presume che Bill sia già andato da Brooke. Brooke lo conferma. E Katie dice che Bill è arrivato ancora più velocemente di quanto si aspettasse. Brooke insiste sul fatto che vuole solo Ridge, ma Katie si chiede se Bill sia il salvatore di Brooke. Brooke dice che non vuole essere salvata, vuole solo riavere suo marito, e vorrebbe che Ridge le avesse detto cosa è cambiato tra di loro. In seguito, Katie è divertita dal fatto che Dickon e Bill siano corso da Brooke per professarle il loro amore. Brooke aggiunge che li ha mandati via dicendo che Ridge è l'unico uomo per lei. Per Katie, l'approccio di Bill a Brooke rafforza la cosa. Brooke risponde che Bill avrebbe reagito diversamente se avesse saputo che c'era una possibilità con Katie. Katie risponde che Bill potrebbe aver cercato di nascondere i suoi sentimenti se avesse pensato così. Non è disposta a dare a Bill tutto il suo cuore se lui non può fare lo stesso in cambio, specialmente se ci sono uomini là fuori che possono farlo. Brooke capisce che Katie sta frequentando qualcuno. Katie ride e dice che è troppo presto, ma Brooke nota che Katie sembra interessata al nuovo ragazzo. Katie lo ammette, ma vuole che Brooke si concentri sulla sua vita sentimentale. Brooke dice che la sua non è l'unica con problemi, e Thomas sta cercando di mettere in pericolo il matrimonio di Hope allo stesso modo in cui Taylor aveva attaccato il matrimonio di Brooke. Katie, che lavora a stretto contatto con il team di Hope, si offre di tenere d'occhio le cose. Brooke è grata perché non può giustificare la sua presenza in quelle riunioni. Brooke torna sull'argomento dell'uomo nella vita di Katie, ma Katie dice che quando ci sarà qualcosa da dire, le sue sorelle saranno le prime a saperlo. Mentre Katie si prepara a uscire, arriva Liam. Katie esce, e Brooke chiede cosa sta succedendo. Liam dice che Hope e Douglas stanno facendo esattamente ciò che Thomas vuole. Liam ha l'impressione che Thomas abbia troppa influenza e che Liam venga escluso. Liam spiega che era stato con Douglas a casa di Eric e si erano divertiti molto. Liam sentiva che era stata un'ottima opportunità per proporre a Douglas di tornare a casa. Brooke dice che è buono perché qualcuno deve evidenziare che la situazione è solo temporanea. È abbastanza, dice Brooke, ma Liam scuote la testa. Liam spiega ulteriormente che Douglas aveva voluto discuterne con Thomas e Hope. Liam aveva portato il bambino alla Forrester, dove i suoi genitori stavano lavorando. E lui ha le mani addosso a lei, aggiunge Liam. Liam non capisce perché Hope, che sa cosa sta cercando di fare Thomas, lo abbia permesso. Liam non sa come Hope possa sopportare che Thomas sia così vicino a lei. Brooke ripensa al momento in cui aveva affrontato Hope riguardo al commento attraente. Liam chiede perché Hope non sia allontanata dalle cose pazze che Thomas aveva fatto in passato. Brooke dice che Thomas sta cercando di far dimenticare tutto Hope. Liam afferma che Douglas sta aiutando. E Brooke chiede se Douglas sta essendo manipolato. Liam sente che Douglas sta crescendo e sta cercando di trovare il suo posto. Liam racconta a Brooke della proposta di Douglas che tutti tranne Liam trascorressero il fine settimana insieme. Cosa? Questo va troppo oltre, decide Brooke e chiede cosa ha detto Hope. Liam risponde che Hope non l'ha escluso, ne ha detto a suo figlio che era ora di tornare a casa. Liam è preoccupato di sembrare il cattivo. Brooke dice che sta cercando di proteggere la sua famiglia. Liam dice che gli fa paura che nessuno lo stia ascoltando. Nella casa di Deacon, Sheila è sorpresa che Brooke e Ridge si siano separati appena si sono rimessi insieme. Deacon scherza che la sorpresa di Sheila è perché lei non c'entra nulla. Sheila indovina che Deacon non si è riuscito a raggiungere Brooke abbastanza velocemente. Lo ammette, dicendo che, a differenza di Sheila, lui può andare dove vuole. Sheila si chiede quante volte debba dire a Deacon che sta sognando. Deacon nota che lei aveva detto anche che Brooke e Ridge sarebbero stati sempre insieme. Sheila insiste sul fatto che non aveva torto e che Deacon non sarebbe stato l'uomo a cui Brooke si sarebbe rivolta. Gli suggerisce di lasciarla piangere tra le sorelle, perché è meglio per tutti che Deacon stia lontano da Brooke. Sorridendo, Deacon chiede se Sheila lo sta minacciando. Sheila dice che le sue parole sono solo solide indicazioni. Lui dice che sta aspettando che lei dica altrimenti. Lei però dice di volere che lui sia realista, ma lui trova divertente che lei lo dica. Sheila ipotizza di aver fatto troppo per il suo ego e aggiunge che questo non è ciò che Brooke si immaginava di ottenere. Sheila afferma che tutte le sue notti con Deacon lo hanno viziato, e Brooke non può competere con Sheila. Deacon decide che dovrebbero semplicemente lasciare perdere l'argomento, ma Sheila dice che potrebbe aver bisogno di una distrazione. Lui le chiede cosa ha fatto quel giorno. Lei risponde che è ciò che fa tutti i giorni, guarda le sue telenovele e aspetta il ritorno di lui a casa. Deacon dice che potrebbe cambiare aria e andarsene. Sheila chiede perché dovrebbe farlo. Dice che Deacon mette sempre un sorriso sul suo volto. Lo chiama il suo salvagente e dice che esiste per lui. Lui è il suo mondo intero, dice. Lei pensa che sarebbe stato più facile se fosse andata via dalla città. Soprattutto per me, dice lui scherzando. Lei afferma che doveva stare vicino a Ayes e Finn. Dice che ha sacrificato così tanto per loro e che si fanno cose pazze quando sei innamorata. Sheila dice che anche il sexy Deacon la fa impazzire. Non pensa di poterlo ripagare per tutto quello che ha fatto, ma intende provarci. Dico Neshila si baciano.